Musica Buonasera e ben ritrovati a Vita d'Atleta. Era il 23 febbraio del 2002 ed in Valtellina arrivò la prima medaglia valtellinese Bormina per lo short track. Tra i quattro maschettieri che a Sole City vinsero la medaglia d'argento in staffetta c'era anche Michele Antonioli che ho il piacere di ospitare quest'oggi. Ciao Michele. Buonasera a tutti. Grazie per aver accettato l'invito. 13 anni fa il tuo argento è la medaglia che cambiò la tua carriera. A livello di squadra possiamo tranquillamente chiamarlo come il cummine della nostra carriera perché per ogni atleta già partecipare alle Olimpiadi è un'enorme soddisfazione. Poi parteciparvi e vincere una medaglia ancora di più. Anche perché è stata vinta con dei compagni di squadra, con tre atleti cresciuti con me nella Bormio Ghiaccio. E questo dà ancora più risalto a questo risultato di squadra che secondo me il risultato avendo ottenuto di squadra ti rende partecipe più di un progetto perché con la medaglia non è stata vinta quel giorno ma è stata vinta in quattro anni. Ricordiamo i tuoi compagni Michele? I compagni erano Fabio Carta, Maurizio Carnino e i due compagni di squadra erano Nicola Rodigari e Nicola Franceschina. Ti ricordi quando avete tagliato la traguarda? Ma sai sono ricordi, non dico nitidi, anche un pochino fuscati perché comunque corri in uno stadio con 30.000 persone perché noi a Salt Lake City si correva nel Delta Center che è lo stadio di basket degli Utah Jets, quindi una capienza enorme. E quindi tutto un po' fuscato, rumori, luci, quindi non è così nitido. Lo sapore di più forse il giorno dopo, ecco che ti rendi veramente conto quello che è successo. Una soddisfazione magari doppia visto che hai potuto condividere la gioia di quella medaglia con il tuo allenatore Fabio Magarotto, anche lui di Bormio, quindi una gioia bormina all'ennesima potenza. Sì, sì, sicuramente a quelle Olimpiadi eravamo in tanti ragazzi di Bormio come anche nelle Olimpiadi successive, più del 50%, eravamo 60-70%, ma comunque era un gruppo affiatato, al di là che un'ora di Bormio, un'ora di Torino, non è che si viveva proprio assieme. Anche perché poi alle Olimpiadi, quello era forse, era il terzo ultimo giorno di gara, o il penultimo giorno di gara, quindi vieni da 20-25 giorni, trascorsi tutti assieme, in appartamento assieme, di vita comune, che non è solo nel ghiaccio, ma anche al di fuori del ghiaccio. Non era la tua prima Olimpiade? No, no, no. Questa era la seconda Olimpiade e la prima era stata a Nagano nel 1998, dove forse, come squadra maschile, forse eravamo ancora più forti. Lì forse potevamo giocarci veramente l'oro. Era una squadra molto giovane, che veniva da due gravi infortuni di Willerman e Fagone, una squadra ricostruita, ma ricostruita a tempo di record. Forse ci mancava un pochino di esperienza, perché eravamo tre ragazzi di 21 anni, 20-21 anni, ma tanto è vero che tre mesi prima avevamo vinto la gara preolimpica in staffetta e veramente potevamo giocarci l'oro. Mi ricordo ancora che ne parlavamo con, i più esperti lo conosceranno, i più appassionati di short track con Mar Gagnon, pochi giorni prima, e loro ci vedevano come favorite, perché in allenamento giravamo effettivamente un paio di decimi a giro sotto le altre squadre. Poi invece, non una caduta, ma ben due cadute, ci hanno tolto dai giochi di medaglie. Mentre magari a Salt Lake non valevamo il secondo posto, valevamo un quarto posto, e invece lì una caduta da parte degli americani ci ha aperto la strada all'argento. Ma d'altronde lo short track è così, la caduta, la squalifica, fa parte del gioco, è un po' come lo sciatore che inforca un palo. Certo, certo. È stata un'Olimpiade che ha portato alla ribalta mondiale, forse lo short track, grazie a quella vittoria eccezionale, definiamola così da parte dell'australiano Stephen Bradbury, ma grazie a lui comunque lo short track, in Italia perlomeno, ha cominciato a prendere i piedi, ad essere riconosciuto. Sì, è stata, da una parte lo short track è diventato famoso per quello, addirittura è finito, mi sembra, su trasmissioni satiriche italiane. E' una medaglia che però ha fatto anche bene, perché Stephen Bradbury era un personaggio comunque amato da tutti, nel senso che ha avuto grossi infortuni nella sua carriera, uno anche, forse un anno prima di queste Olimpiadi, perché si era rotto comunque delle vertebre, e quindi della sua fortuna sono stati tutti contenti. Io mi ricordo che ero in tribuna, perché quel giorno noi incorrevamo vicino a una ragazza australiana e faceva i salti di gioia. Dopo ho anche detto che Bradbury non è che era proprio un carneade, uno sprovveduto, perché fino a poco prima del suo infortunio era un'atleta che andava a podio in Coppa del Mondo, e quel giorno è stato proprio il suo giorno. Certo, è vero, lo dipingono un po' come la brutta natraccolo del circolo del short track, ma in verità non era così, l'hai detto tu, era un'atleta di punto, è stato veramente il suo giorno. Il tema di infortuni di Stephen Bradbury, mi piace anche ricordare, tra virgolette, mi piace però, la recisione della femorale durante una gara in Canada, e gli diedero 111 punti, che sono i metri della lunghezza della pista di short track. Certo, ricordo anch'io quella gara, eravamo assieme, mi ricordo, eravamo a Montreal. Forse era anche il mio esordio in Coppa del Mondo, quindi mi aveva anche un pochino lasciato spaventato. Fortunatamente a livello di infortuni lo short track è cresciuto molto, perché se tu ricordi, patinevamo con delle tuttine in Likra che quasi solo a guardarle si potevano tagliare. Ora da 7-8 anni è obbligatorio una muta antitaglio sotto, quindi diciamo che a livello di tagli è un problema scongiurato questo. Certo. Rimangono ovviamente le fratture, che però anche qua i materassi sempre più evoluti attutiscono di gran lunga le botte che si prendono. Certo, già che siamo in tema, Michele, ricordiamo quale deve essere l'equipaggiamento obbligatorio nello short track. Ma, equipaggiamento obbligatorio, iniziamo da un casco, ovviamente, non sono obbligatori gli occhiali, ma ormai credo che il 99% degli atleti li indossano un po' per gli schizzi d'acqua o di ghiaccio che salgono dalla pista mentre si patina dietro a un avversario qualche colpo e comunque salvano da un'eventuale caduta di gruppo, possono salvare il guanto, che anche quello deve essere antitaglio, e questa tuta antitaglio che copre tutto il corpo. All'inizio questa tuta andava a salvaguardare le zone considerate vitali, una femorale, una giugolare, mentre adesso ormai è diventata completa e non possono esserci, diciamo, parti esposte di pelle a un potenziale pericolo, quindi i polsi comunque sono protetti, anche la zona della caviglia è protetta. Quindi diciamo che in termini di sicurezza si sono fatti notevoli passi avanti. Ai miei tempi c'era anche un collarino in Kevlar, è ancora obbligatorio? Questo collarino praticamente è stato sostituito da questa tuta antitaglio che sale fino al collo. Ovviamente nulla vieta che se uno vuole metterlo oppure se è una tuta antitaglio un pochino più bassa può indossarlo. Parastinchi? Hai ragione, mi sono dimenticato. No, magari i tempi cambiano però. Parastinco obbligatorio per delle lamate che si possono ricevere sugli stinchi e ovviamente la ginocchiera che pare alle ginocchia. E anche in termini di materiali la regolamentazione federale, nazionale, internazionale è cambiata. Una volta c'erano le punte e le code che erano degli angoli vivi, invece ora non credo. Anche quello, addirittura ogni gara viene fatto un controllo sul raggio, diciamo, sull'angolo della punta e della coda della lama per evitare che appunto angoli troppo a 90 gradi possano facilitare tagli o ferite. Mi chiede molto spesso una domanda che mi viene posta a me, quale ex patinatrice è questa. Allora, girate sempre nello stesso verso, potete girare anche dall'altra parte, la risposta te la lascio fornire a te. È simpatica, sembrerebbe assurdo che un patinatore che passa la vita sui pattini trova fatica a girare nell'altro verso. È in grado, però penso che un patinatore di hockey si trovi decisamente più a suo agio. Il fatto non è dovuto perché i ragazzi non sono capaci o perché si allenano sempre in quel modo, ma semplicemente perché il pattino è talmente ottimizzato per la prestazione che ha degli spostamenti e delle curvature adattate a girare in senso anti-orario. Quindi una lama decentrata, in parole povere, rispetto alla scarpa? Esatto, la lama non è esattamente nel centro del pattino come può avvenire in pista lunga, dove il raggio di curvatura è minimo, ma è spostato in direzione della curva, così come anche la lama viene piegata, molti non lo sanno, ma viene piegata, appunto per facilitare l'inclinazione curva e avere un maggior grip e una maggior spinta. Queste cose sono state notevolmente accentuate, addirittura negli ultimi anni si vedono anche dei supporti tra la lama e la scarpa ancora più alti per permettere maggiori inclinazioni, maggiori angoli di spinta e maggiori forze. Ovviamente bisogna essere più preparati a livello atletico per poter fare questo. A livello fisico c'è una parte del corpo che è più forte dell'altra oppure si compensa? Ma alla fine da alcuni test che facevamo e che si fanno non c'è una grossa dismetria tra le due gambe, si parla di un massimo di un 5% che quindi è considerato fisiologico e tra l'altro si è notato che tra gli atleti non è preponderante una gamba o l'altra, quindi non comporta a livello muscolare cose strane insomma. Torniamo alla tua carriera Michele, lo short track nel DNA, tuo padre Adelio è stato da sempre allenatore del movimento Bormino e tu da piccolino sei nato pattinatore. Non te lo faccio dire a te perché ho talmente nitida l'immagine di questo piccoletto sui pattini che non ti chiedo se prima hai praticato altri sport, non credo. Ma chi lo sa, chi si ricorda sinceramente. No vabbè, io sono sempre stato un ragazzo molto sportivo nel senso che oltre a pattinare ho giocato a pallone, ho giocato a pallavolo, insomma lo sport è la mia vita posso dirlo, tanto è vero che tuttora a 38 anni continuo a cimentarmi in varie attività sportive. Tra qui il ciclismo, scusa se ti interrompo, che ti riesce molto bene ma ne parliamo dopo. E quindi ho iniziato subito col pattinaggio, mi è venuto facile, mi sono sempre appassionato perché a dispetto di chi magari ci vede pattinare, mi vedeva e vede i ragazzi adesso pattinare sempre nello stesso senso, può pensare che sia noioso. Ma le casualità, le dinamiche di questo sport sono talmente varie che lo rende tutt'altro che noioso. il sorpasso, la tattica, l'aspettare, l'accelerare, le distanze sempre diverse. Quindi non mi sono mai annoiato a pattinare, per me è sempre stato un gioco. Poi dopo è venuto anche naturale che terminata la carriera ho iniziato anche a allenare perché comunque mi ricordo che anche da trete sono sempre stato molto appassionato di metodologie di allenamento, di capire determinati lavori. E quindi è venuto naturale anche un po' perché l'ho sentito anche quasi, ma non un obbligo, non un dovere, però giusto che un atleta che comunque ha ricevuto tanto dalla società di Bormio, a Bormio Ghiaccio, pensavo che era anche il momento di cercare di dare anch'io qualcosa a loro. Nel frattempo hai avuto l'occasione di entrare a far parte del corpo forestale dello Stato e questo è stato ovviamente un bel aiuto sia ad atleta che attualmente che è la tua occupazione. Certo, io fino all'età di 19 anni ho corso per Bormio Ghiaccio, poi ho fatto due o tre anni nel centro sportivo esercito, finché poi ho avuto l'opportunità di entrare nel gruppo sportivo della forestale, che non posso far altro che ringraziare perché ovviamente mi ha permesso di proseguire l'attività in maniera più tranquilla e serena anche a livello economico. ho ricevuto tanto, a loro ho portato una medaglia olimpica, quindi diciamo... Ed anche una medaglia mondiale. Ed anche una medaglia mondiale. E quindi a loro sono grato e ho continuato nell'attività sportiva fino al termine della mia carriera. Dopodiché sono transitato nel ruolo di lavoro e attualmente lavoro per il corpo forestale al comando stazione di Val di Dentro. Michele, che ricordi hai dello short track di quando eri piccolino? Ma forse sicuramente. Il ricordo è quello che abbiamo tutti noi, che anche te Katia hai. Il fatto di pensarti che abbiamo iniziato a patinare su una pista preparata la sera dai nostri genitori con l'acqua dell'oratorio. Patinavamo senza neanche i picchetti che delimitavano la pista, ma attorno alla neve, spalata al centro, senza materassi. Iniziavamo proprio le prime gare lì. Ecco questa cosa. Mi fa sorridere a pensare che in Canada, in Corea, loro sicuramente non hanno iniziato così. Loro hanno iniziato in palazzetti riscaldati, con tantissima gente in pista, eppure nel giro di qualche anno siamo arrivati a lottare con loro. Ecco questa cosa, la specie. Ma io sicuramente sono dell'idea che lo sport per ottenere i risultati è la passione. Evidentemente avevamo tanta, tanta passione. È vero. Mi ricordo anche magari il periodo in cui la giornata di sole, di caldo, la sera si formavano delle bolle su questo ghiaccio, però noi in perterriti patinavamo, ci divertivamo come dei matti. Ho anche un ricordo di una gara singolare in quali di isolaccio, Michele, non so se tu c'eri, in curva non avevano i picchetti, avevano delimitato il raggio con dei lumini, quelli da cimitero, il che è tutto a dire. Però erano veramente i tempi... I giochi della gioventù, tu ne hai partecipato, hai anche avuto l'occasione di vincerne qualcuno a livello nazionale. Sì, i giochi della gioventù. Tu erano, diciamo, l'apice per noi ragazzini, il culmine, anche perché passavi dalle varie fasi, comunale, provinciale, regionale. Poi si stava via una settimana con ragazzi anche che praticavano altri sport. Avevano un altissimo valore sociale, oltre che anche a livello agonistico, perché se andiamo a guardare quanti atleti... Poi si sono rivelati i campioni mondiali, hanno ottenuto risultati ai giochi della gioventù. Eh, forse questo sicuramente è qualcosa che da parte delle istituzioni sportive è andato perso. Continuano a parlare di recuperarli, però all'orizzonte non si sa ancora nulla. Anche perché purtroppo in Italia la Federghiaccio, la FISG, non naviga in acque molto nitide, anche se Noriana Fontana ha riportato in auge questa specialità. Ma sicuramente non possiamo contare su disponibilità, diciamo, economiche rispetto a nazioni all'avanguardia. Però neanche in Italia adesso possiamo dire che siamo poi così arretrati. Se pensiamo agli staff che possono avere adesso rispetto ai nostri tempi, diciamo che è cambiata la situazione. Hai ragione, era una nazionale made in Valtellina, made in Bormio ai nostri tempi. Su dieci nazionali, otto provenivano da Bormio, esclusi un Fabio Carta e una Marta Capurso della nazionale di fine anni 2000. Però, ricordiamolo, le ragazze vinsero il titolo mondiale, i ragazzi idem, nella stessa edizione di Laia del 96. Quindi con pochissimi mezzi riuscivamo ad arrivare in alto. Sicuramente quello che parli te è un altro piacevolissimo ricordo. Mi ricordo che avevo 19 anni, era il mio secondo mondiale, mi sembra. E lì era stata a Grande Italia, se ti ricordi a Denag nel 96, poco prima. A parte i risultati ottenuti nelle gare individuali, ma poco prima voi ragazzi, tutti e quattro di Bormio, ottenere un titolo mondiale contro nazioni come Canada e Cina, perché mi sembra che era arrivata terza la Cina, forse. Sì, c'era anche la Corea. E la Corea, che possono vantare milioni, no, milioni adesso io esagero, però più di mille tesserate rispetto a una nazione che vanta 100 tesserati, 200 tesserati. Pensare che quattro ragazzi di un paesino di 4.000 abitanti possa competere, vincere anche col titolo mondiale. Con il record del mondo, sì. Con il record del mondo, è qualcosa di veramente impensabile al giorno d'oggi. E dieci minuti dopo, ripetere la stessa impresa da parte della squadra maschile. Ho ancora in mente, Michele, la soddisfazione di Armando Rastelli, ricordiamolo, che è stato uno dei tecnici di quella nazionale. La sua soddisfazione è anche la nostra, ovviamente, però la sua è stata veramente grande, era un modo per ricordare anche... Sicuramente anche Armando, anche lui era di Borbio, quindi uomo dotato di una passione immensa, a cui personalmente vanno i miei più grandi ringraziamenti. Mi ricordo anche quando ci allenavamo, che addirittura nella corsa, perché lui proveniva dall'atletica, ci dava proprio una mano i primi tempi, correva con noi maschi e dettavano i ritmi. Poi noi eravamo diventati un pochino più bravi e era passato a dare la mano a voi ragazzi, insomma. Quindi era anche partecipe nell'allenamento, non è che erano quei tecnici che stanno lì a fianco, seduti, col cronometro e guardano e basta. Certo. Dobbiamo dirla tutta, Michele. Un ringraziamento speciale va anche a tuo papà, Deilio Antonioli. È stato il tecnico di tutti i nazionali che provengono dal bacino di Borbio, sono tantissimo, questo va riconosciuto. Ma questo sicuramente lui... Probabilmente il pattinaggio a Borbio era iniziato con questo gruppo di amici che avevano poi fondato l'Unione Sportiva Bormiese e ognuno si era preso la responsabilità di cercare di sviluppare lo sport di cui erano più appassionati quei tempi. Quindi chi si dedicò al calcio, chi si dedicò alla pallavolo e lui si dedicò allo sviluppo del pattinaggio. E probabilmente, mosso anche da un grandissimo interesse, perché partivamo da zero, ha iniziato a imparare, imparare e ha dato tanto. Adesso io diciamo che lo posso come allenatore definire come una Volkswagen Golf che non passa mai di moda. Hai ragione, è proprio così. Si mantiene giovane, ma grazie alla sua passione per questo sport e sta sfornando altri campioni i quali hanno la fortuna anche di essere seguiti da te Michele. Quali emozioni provi da ex atleta a poter partecipare alle gioie di questi giovani che si stanno affacciando alla ribalta internazionale? Ma sai che ti dico che sono quasi più teso, anche se non lo do a vedere, quando seguo loro, di quando correvo io? Nel senso che magari quando sono in pista, se dovessi mettere in cardiofrequenzimetro, probabilmente i battiti sono più alti di quando correvo. No, a parte gli scherzi. Però ecco, la cosa che forse ti dà più soddisfazione è vedere quei ragazzi che magari non potevi credere che potessero avere delle chance, che comunque pattinavano perché gli piace a livello sociale, di integrazione nel gruppo e vedi che nonostante tutto migliorano sempre di più e arrivano anche a risultati impensabili. Ecco, quello ti nutre, ti dà proprio un'enorme soddisfazione, oltre anche a quei ragazzi che vedi che sono dotati di particolare talento e raggiungono risultati elevati. Che cosa pensi di trasmettere loro? Ma quello che mi piacerebbe trasmettere, che sicuramente non è facile, è dare loro la passione per qualcosa, per lo sport, e dargli un'educazione sportiva. Sportiva che significa capire cosa vuol dire allenarsi, l'importanza dell'allenarsi e di competere in modo corretto. Dopodiché, sicuramente avendo pattinato certe dinamiche di gara, tattiche di gara, sicuramente il mio occhio è allenato rispetto a loro, che è privo di esperienza. Ecco, un consiglio che sarebbe da dare agli atleti, o che sarebbe bello poter realizzare, prima sarebbe meglio essere allenatori, e poi diventare atleti. Purtroppo l'anagrafica non ce lo permette. Non funziona così. Michele, su questa tua bella frase, chiudiamo il nostro incontro. Ti ringrazio davvero di nuovo e in bocca al lupo per la tua attività da allenatore. Grazie, grazie. Io faccio in bocca al lupo a voi e ai miei ragazzini per l'ultimo mese di gare. Un'ultimissima cosa, appunto tra un mesetto la finale dell'Europa Star Class. Insomma, i tuoi ragazzi sono sulla cresta dell'onda. Sì, questo Europa Star Class è stato un circuito che ha permesso all'Europa di crescere, perché il gap con l'Oriente è decisamente calato. E i miei ragazzini sarà molto difficile, perché adesso andranno a confrontarsi con quelli dell'Europa dell'Est, con una Russia e un'Ungheria, che stanno crescendo e dicono la loro a livello mondiale. Però io sono fiducioso, secondo me qualche medaglia la possiamo portare a casa in questo campionato europeo giovanile. Grazie ancora, chiudiamo per davvero. Grazie Michele Antonioli. Grazie, ciao. È tutto per questa sera, grazie per la cortesia attenzione. Vi rimando a mercoledì prossimo. Buona serata. Grazie a tutti.